Siamo a Gosto del Liro Ti piace? Sì, sembra un paesino non banale, no? Ho sbaglio? Il lago è giù probabilmente, vedi no? Guarda un po' Puoi essere il Liro, no? No, no, perché giù lì... Am capito! Un fino a curva, ti ti piace? Lì, in cima... Non è il Liro, no? Eh? Non è il Liro? Non è il Liro... Tu vedi il Lago in fondo... Non è il Liro... Non è? Non è il fuile... ... Stai da un colo guardato Rifugio Vincino. Qui si entra e vede il lago. Su quella macchina. Siamo in paese, devo riprendere un po' giù in paese. La fonte di Mariella. Guarda un po'. Guarda un po' giù. Guarda un po' giù. La vatellina, i fondi. Poi invece una buona parte va verso St.Morris. Vanno su tanti, molti vanno su tutti. A fare i camerieri. Fratellieri, un atollieri. Vedi un po' di lago. Poi giù lì. E' buona, no? No. E' buona? E' buona? No. E' buona? Sì. 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 Si può muovere però lentamente, hai capito? Innanzitutto. Sì. C'è una sassi. Ma non vi ho avuto. È un piano. Ma, ma… E' buona? hai visto che tutte le raccolta funghi regolamentate raccolta frutti di bosco regolamentate anche i frutti di bosco sono regolamentati la macchina ti piace o no tutta la vista del coso del lago così fino a qua che vedi un panorama decoroso che gli fa la ripresa inclinata è la sala della del prese del prese è che l'aria che l'aria mettere l'aria Ecco me, se fosse casa tua. Ecco me, se fosse casa tua. L'affitto caldo da aprile a ottobre, 2060, 1200 euro. Ecco me, se fosse casa tua. Ecco me, se fosse casa tua. Certo? Certo. 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 Per cosa la usi con la piastra? Non è il Burkina eh? Inecepibile, tutto nero. Il liro garantito? Sì, sì. L'ultimo del liro. 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 Grazie a tutti. 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 Ecco, dici, nemmeno questo è l'iro, no? Eh? Non è l'iro? Non è l'iro del lago in fondo. 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 comunque se non è caratteristico questo borgo qui non so io penso a come era dura la vita dei sempre con i servizi all'esterno il 1905 siamo andati al Liro siamo andati al centro il nucleo della città simpatica cittadina per andare al posteggio osterile del belvedere buongiorno di qua eh rinascia eh vieni vieni rinascia Grazie. E' di qua, eh? Inanzia! Eh. E' di qua? Sono chi, eh? E' di qua, 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 eh? Per cosa la usi con la piastra? E' di qua, eh? E' di qua, eh? E' di qua, eh? E' di qua... E' di qua, eh? E' di qua, eh? E' di qua... E' di qua, eh? 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 E di qua, eh? E' di qua... E di qua, eh?